Riaperto al pubblico, l'ascensore di Chiaia è interamente rinnovato, l'impianto di risalita torna a collegare via Chiaia a via Nardones. Non ne potevo più, ho fatto la spesa e ogni volta me la dovevo fare a piedi, per cui sono quattro mesi che ho le gambe molto allenate, il fiato, ma finalmente hanno aperto e sono contentissimo. L'azienda ha acquistato due nuovi ascensori con un investimento di 120.000 euro. I due nuovi ascensori assicurano 700 corse per 10.000 passeggeri al giorno, temporaneamente ridotte per le limitazioni previste dalla normativa anti-covid. Noi che abitiamo a Monte di Dio siamo contentissimi di questa riapertura. L'impianto aveva chiuso il 12 ottobre scorso, la riapertura era prevista a fine gennaio, ma è slittata di qualche settimana per acquisire prima dell'apertura la necessaria documentazione amministrativa. Sì, ma è più per le persone anziane, figurati, perché giustamente loro lo svago che hanno è scendere un po' al mattino, al pomeriggio. Un ascensore che ferma, sai bene quello che succede per gli anziani, è faticoso salire le scale e tutto quanto. L'intervento straordinario eseguito negli ultimi quattro mesi ha incluso la rimozione e sostituzione di cabina, contrappeso, la sostituzione del quadro elettrico di comando, l'adeguamento dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e l'installazione di un nuovo sistema di monitoraggio dell'impianto per la diagnostica di funzionamento. Si tratta così di un intervento importante che consente la ripresa di un servizio fortemente utilizzato dai cittadini. Ma è normale, non ce la facevamo più.